L'ABIA ha recentemente svolto un'indagine presso le banche sull'evoluzione dei modelli di servizio ai clienti. Moltissime banche hanno risposto, l'indagine è molto rappresentativa e potete trovare i risultati sul sito di bancarieditrice, nella sezione dedicata alla rivista NK perché lì sono stati pubblicati. Giusto qualche risultato principale, prima di tutto su che cosa le banche oggi focalizzano l'innovazione in materia di modelli di servizio. Il primo punto è risultato essere i canali distributivi. Il sistema distributivo va rinnovato e il principale elemento di innovazione è rappresentato dalla integrazione dei canali fra loro. Integrazione che non significa soltanto integrazione operativa dei canali, ma significa anche integrazione in termini di customer experience del cliente. Dall'indagine emergono tantissimi dati interessanti e di informazione, soprattutto sulla parte di innovazione dell'agenzia che le banche oggi stanno predisponendo e che vedremo effettivamente via via attuate nel nostro territorio. Sta cambiando un po' proprio la geografia del sistema distributivo del settore bancario italiano e è una geografia non più basata soltanto sul mondo fisico ma è basata anche sul mondo digitale e vedrete come risultati della nostra indagine quanto le banche oggi stanno puntando a costruire una relazione con il cliente anche a distanza. Grazie a tutti.